C'è un rumoroso silenzio a fare da cornice alla vicenda Foggia. Non parla nessuno, bocche cucite in viaggio Berti, dove pare si attendi che sia la sindaca Episcopo a fare il punto e a spiegare i motivi del naufragio della trattativa con gli imprenditori locali. Ma nastro sulle labbra anche in corso Garibaldi, dove la stessa prima cittadina, investita lo scorso 6 maggio da canonico attraverso un mandato esplorativo a cercare compratori, tarda a spiegare a città e tifosi come si sono svolti i fatti. Eppure la stessa sindaca Episcopo, con i suoi più stretti collaboratori, avevano garantito una conferenza stampa nei giorni scorsi al termine del giro di perlustrazione e al di là di quelli che poi sarebbero stati gli esiti, che va detto non hanno portato risultati a casa, visto che il Foggia resta tuttora nelle mani di Nicola Canonico e lo stesso Canonico ha revocato il mandato all'amministrazione comunale. Ci abbiamo provato noi a sentirla la sindaca di Foggia, ottenendo tuttavia gli stessi risultati incassati dalla stessa nel mandato esplorativo. La sindaca Episcopo non rilascia in questa fase alcuna dichiarazione sulla vicenda calcio-foggia, hanno spiegato dall'ufficio stampa di Corso Garibaldi. E allora a questo punto non è da escludere che se il silenzio dovesse perdurare non sia proprio Nicola Canonico a spiegare, magari in una conferenza stampa entro la fine della settimana. Sì, certo appare doveroso dare spiegazioni ad una piazza che ora intende capire quale sarà il futuro del Foggia, atteso peraltro da adempimenti fondamentali come l'iscrizione al prossimo campionato. Fallita la trattativa con i foggiani, stoppata anche quella alternativa con Nicola Di Matteo. Ieri ci sarebbe stato un incontro nel quartier generale di Canonico, tra l'attuale socio di riferimento del Foggia ed emissari dell'imprenditore Campano. Un incontro che a sentire i bene informati avrebbe di fatto chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di cessione del Foggia nelle mani dell'ex azionista di Grosseto Spall e Imolese. Resta dalle parti del Comune una timida speranza di riavvicinare la cordata dei Finis Salandra a Canonico. Ci spera la sindaca episcopo e forse è questo il motivo del suo silenzio che obiettivamente non potrà durare a lungo.